Caro Dio, dopo tutti questi anni, l'uomo che credevo mio padre è morto. Ma poi, Netti mi ha scritto che il mio vero padre venne linciato e che la mamma, due anni dopo, sposò questo che è morto ora. I miei figli non sono mio fratello e mia sorella. Pa non era mio padre. Tu sei la moglie? Sì, signora. E come è morto? Sopra di me. Beh, è tutto tuo adesso. Sì, ma ancora non ho capito come. Il tuo vero padre era il padrone della casa, della terra e del negozio. E lui li lasciò a tua madre. E poi, quando tua madre è morta, tutto è passato a te e a tua sorella Netti. Io, comunque, ho avuto i soldi. Beh, se vuoi scusarci, dobbiamo prendere il treno. e si conoscono. Io, quando hai ammati, io ho avuto i soldi. Oh, oh. Anche, anche, anche. Io, io sono un po'reddia. Grazie a tutti.